L'Italia, la nostra traccia di casa è sempre in avanti e speriamo di vedere i nostri tifosi in grande stanza. Sono Antonio Giovinazzi, il driver di riserva di Ferrari e questo è il previso di SNAPDRAGON. L'autonomo nazionale di Monza è una traccia così, la velocità e la bravura sono le chiave. A fine della traccia, parliamo di più di 330 km per l'ora. Poi, entriamo in una traccia di right-lap. Andiamo fortemente sui ruoli, ancora nella variante della roggia, un'altra traccia e un'opportunità superiore prima del livello, dove un ripeto del traccia è necessario. Un'altra traccia con il GRS open, l'entrata in la variante Ascari, una traccia di traccia di traccia, super divertente per guidare qui. E finalmente, apriamo il traccia di traccia alla parabolica. Qui, portiamo la velocità di potenza dopo riportare un paio di ruoli. Un'epoca molto speciale è in fronte di noi e siamo sempre riusciti a riuscire qui. Andiamo e forza Ferrari sempre! Ciao! 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 Ciao!